Bueno, muchísima grazie, è chiaro, è un dia nel quale penso che il paese sta in lutto, il paese sta veramente llorando non solo per questa tre ovene in Ruatan, che desafortunatamente lo che todos e todas temiano, è l'ultimo dia quando avevano desaparecido, se temia che questo iba a essere naturalmente la scoperta, che stavano assassinati, però también llorando per la muccia, muccia, muccia muere che non stanno con nosotras oggi. La 400 e pico muerti violenti del anno passato, la varia di questo anno, quindi questo deve essere, deve essere non solo un momento di grande lutto, un momento di grande tristeza per questo paese, per questa muccia, un momento di solidarietà con la sua famiglia perché è inaccettabile, inadmissibile, criminali, però anche un momento per che veramente comprendiamo che abbiamo bisogno, compromisos, recursos, di tutto, per veramente parar, per parar questa tendenza che il paese segue di un patriarca sempre più e più forte, di norma machista, norma culturali e sociali, che segue normalizzando, normalizzando questo, iniziando naturalmente con il caso di impunità, però parlando anche della maniera nella quale molti volte questi casi sono visibilizzati nel medio di comunicazione, nella maniera nella quale le donne sono visibilizzate, anche regolarmente, solo come obietto sessuale, non come agente di cambio, come attrice importante del cambio e del desarrollo di questo paese. Questo è il momento per dire veramente che abbiamo bisogno di rompere con questo stereotipo, con questa discriminazione, con queste disegualdà che hai, che si traduce naturalmente in alto livello di violenza, nel fatto che la mujer non può vivere liberi, non può vivere liberi sicuri perché tiene miedo per la sua vita, in le calles, in le casas, in la vita sociale, questa è la realtà. Quindi questo non deve essere pensare, questo non è un asunto di madre, non lo dico solo perché sono madre, lo dico perché sono una città del mondo e voglio e credo che la unica maniera per che la democrazia e il Stato di Derecho si possa fortaleciare, è esattamente assicurare che cada uno e cada una possa vivere una vita libera di violenza e vivere in dignità e con rispetto ai sui Derechos Humani. Questo è parte della democrazia e questo è la base anche del desarrollo economico. Sappiamo che la violenza per le donne e le donne costa circa il 5% e il 8% del prodotto interno brutto di un paese. E noi ci vediamo come potremmo, se ci si fattiamo in la prevenzione, come potremmo anche prevenire e usare recursos per costruire scuole, per costruire paz, educazione e molte altre cose. A suo criterio, deve decretare una emergencia a livello nazionale e prendere il toro per i cuerni, per di una volta per tutte affrontare questa violenza in contra di la donna? Io penso che si deve posizionare come un tema centrale della agenda politica del paese, questo sicuramente. Ora, parlando del declaratore di emergencia, penso che questo può avere anche un valore simbolo, naturalmente non un valore legale in termini del tipo di emergencia che il paese può declarare, però, claro, posizionare questo come un tema centrale e critico nell'agenda di Hondura è importante. E come dico, questo non è solo un tema dell'estate di direzione, dell'estate di Hondura, che chiaramente tiene grande responsabilità e necessita fortalecere il suo lavoro. È un tema paese, è un tema paese nel quale il settore privato, la organizazione è basata nella fede, le iglesi, le scuole, i patronati, tutte le organizzazioni hanno bisogno di posizionare, questo non è un tema che solo resguarda, come dico, le donne o la Secretaria di Asunto della Mujer, è un tema che resguarda tutto il paese e si necessita posizionare in maniera forte e contundente. Io non sto ascoltando molte voce di uomini salendo dicendo che sta passando con il uomini, perché c'è questa masculinità così tóxica che deve portare a questo livello di violenza, quali sono i dialoghi, i processi che possiamo avere nel paese per riflettere sul paese per riflettere su questo. Necessitiamo ascoltare molte voce, non solo, è sempre un grande riconoscimento alla organizazione della moera, alla organizazione femminista, ma la voce di molti altri settori che hanno anche un ruolo molto importante e dare un cambio a queste norme sociale e culturale che normalizzano, legittimizzano e in una certa maniera anche condurano la misma violenza sui moere e sui niñas in tutta sua forma, incluida la più extrema che il femicidio. Per concludere, cosa sta fallando, cosa dobbiamo fare come paese? Non stiamo facendo con serietà la vita della moera, ci fa chare, ma questa è la realtà. Non stiamo facendo in conto, non stiamo facendo il valore necessario che si necessita dare a questa moera, non stiamo facendo, e questo non deve essere riflessione, perché questa moera non sta con le altre, deve essere uerfano e uerfano, deve essere una famiglia impactata, abbiamo che lavorare per cada una e abbiamo che levantare la voce, quindi abbiamo che chiedere a cada una e a cada una che sto facendo io anche per cambiare questo. Se sento che la mia vicina ha problemi con la sua parella, per esempio, ho trovato una maniera di aborare, di comunicare con lei, di ascoltare, di vedere come possiamo supportarla. Se sento di storia di, se vedo nelle redi sociali messaggi denigratori di moere sulle sessualità nella maniera che la sono presentata. Non comparte questo nelle redi sociali. C'è molte cose che possiamo fare, parliamo di questo, visibilizzamolo, parlamolo nelle iglesi, parlamolo nei centri di culto, parlamolo nel patronato, perché è un tema che ci impacta. Deguiamo l'invisibilizzazione di questo, chiamiamolo questo nell'abietto, nel pubblico, parlamolo, e pensiamo che cada uno e cada una possiamo fare qualcosa per dare un cambiamento a queste norme sociale e culturale, che seguono matando a le donne, che seguono dejando a le donne e a le donne, e che seguono facendo questo in un paese non sicuro, per a molti, molti, molti donne. Grazie mille, grazie per la amabilità di atendere.